Quando i morti portavano i doni, la mattina del 2 novembre, i bambini si svegliavano impazienti, rovistando in casa la ricerca del regalo desiderato che i nonni defunti avrebbero nascosto chissà dove. Si dormiva con un solo occhio chiuso la notte dell'uno, con l'altro si cercava di sbirciare per scovarli senza essere visti e guai a farsi scoprire svegli e osservarli di nascosto, avrebbero fatto il solletico ai piedi e se ne sarebbero andati via, riportando con sé tutti i doni. Una favola horror, accattivante e macabra alla quale ormai non crede più nessuno. Non più una festa per bambini ma per adulti, sul volto dei quali stamattina non c'è alcuna trepidante attesa, solo i segni dei bagordi della scorsa notte. Ma basta entrare in una pasticceria del centro e l'antica festa dei morti ritrova sapori, profumi, colori e identità. C'è il biscotto ambrato, piatto e duro, con sopra un altro bianco, vuoto all'interno, che ha sempre forme diverse. Sono le classiche ossa di morto, preparate insieme ai bersaglieri al cioccolato, regine di glassa bianca, enzulle, ciambelle di mandorle e miele. E poi le rame di Napoli, a dispetto del nome tipicamente catanesi, dal cuore morbido al gusto di cioccolato, ricoperto da una glassa di cioccolato fondente e granella di pistacchi. La gente cosa preferisce in particolare? In questo periodo il rame di Napoli è il massimo, anche nel stesso punto di vista dell'aeroporto. Ieri sera abbiamo fatto un pleno perché tutti cercavano, che non ci aspettavamo, volevano soprattutto il rame di Napoli. I dolci della tradizione rimangono nel tempo? Sì, ho visto che nonostante la crisi, nonostante il momento particolare, la tradizione è sempre la... i cittadini la mantengono bene, anzi. Dei vecchi pupi di zucchero invece, sculture di pasta di zucchero colorata, riproducenti paladini o generiche figure maschile e femminili, non resta traccia, solo memoria di chi li ha gustati da piccolo e ne racconta ancora il dolce ricordo.